Sono le quattro e mezzo del 22 agosto e l'avventura ha inizio Benvenuto in Tunisia Tutto chiaro Mezzanotte del 23 agosto Dura del previsto però siamo arrivati a destinazione Sani a Sampi per adesso Sono le ore 10 del giorno 24 Sono passati praticamente due giorni dalla partenza Siamo finalmente arrivati alla marina Purtroppo tutto è molto lento Finalmente abbiamo iniziato a preparare Dopo ore e ore di carte Di frustrazia Ed imprevisti Finalmente siamo in acqua Avevo proprio bisogno di rilassare un po' E ci sarà da divertirsi Da cercare tanto E sarà sicuramente una bella gara Naturalmente sono qui con Alfonso Sarà anche per lui una preparazione molto faticosa Ragazzo sta messo bene Non potevo fare scelta migliore Primo vero giorno di preparazione Fortunatamente le condizioni del mare, del vento Sono buone Abbiamo notato che qui c'è sempre un po' di vento E mette velocemente onda grossa, male formato E' un po' di vento E' un po' di vento E' un po' di vento Grazie a tutti 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 E oggi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti